Ben trovati alla nostra pagina dedicata allo sport. Apriamo con il calcio. La Lucchese supera 2-0 il Montevarchi al Porta Elisa. Separate da un solo punto in classifica ma non dalla voglia di disputare un campionato tranquillo. Lucchese e Montevarchi tornano ad affrontarsi dopo ben 13 anni. Pagliuca ripropone l'undici tipo con due ghiotte novità. Il difensore centrale Dumbravanu al posto di Bellic e Nanni in attacco per Semprini e Acciaccato. Prima volta in panchina anche per Minala. Occhio al Montevarchi di Malotti ringalluzzito dal successo sul Teramo. Buon ritmo nella fase iniziale dove però succede poco. Il derby è sporco, brutto e cattivo davanti ai mille del Porta Elisa. Al 23 tiro di Frigerio dopo percussione di Visconti. Il portiere Giusti si rifugia in angolo. Al 24 la Lucchese crea le premesse per andare in vantaggio. Il cross dalla sinistra è spinta clamorosa su Nanni da parte di Dutu che viene ammonito. L'arbitro non ha dubbi e calcio di rigore. Dal dischetto Fedato si presenta e realizza il gol del vantaggio per il quarto successo personale. Al 34 Nanni si lancia in contropiede. Dutu lo atterra. È già ammonito e adesso viene espulso. Il Montevarchi rimane in dieci uomini. Ora la Lucchese può agire di rimessa. Corsinelli arriva col passo lungo su assist di Belloni. Subito dopo ammonito. Si va a riposo con i rossoneri in meritato vantaggio. Rossoneri che devono insistere lo fanno con profitto anche in avvio di ripresa. E così all'undecimo giunge il raddoppio. Azione che si sviluppa sulla sinistra. Poi Visconti dall'altra parte mette in mezzo per Nanni un pallone invitante che il centravanti sanmarinese mette dentro comodo comodo per il 2-0. Seconda rete stagionale per l'attaccante della nazionale di San Marino. Al 19 la Lucchese che ora è padrona del campo, si ora al Tris. Il cross è del solito Belloni. Per Frigerio che arriva in spaccata. Grande la parata del portiere del Montevarchi giusti. Al 26 gran tiro di Fedato che si ora al palo. Il terzo gol sembra nell'area ma in realtà non arriverà mai. Poi il valser dei cambi, Gibilterra Berbelloni. Subito dopo Bensaia, Brandi e Nannini che si rivede dopo qualche settimana per Eclou, Fedato e Corsinelli. In realtà non succede altro. La reazione del Montevarchi è tutta in un colpo di testa di lunghi. Anche Babbi per Nanni da notare al novantesimo. Si giocano quattro minuti di recupero. Finisce 2-0 per la Lucchese. Vittoria limpida e senza discussioni per una squadra di Pagliuca che conferma il suo buon momento. E sabato prossimo trasferta sul campo del Gubbio. E proseguiamo con il calcio. Andiamo a vedere i risultati della decima giornata per la serie D. Girone D, Borgo Sandonnino Ghiviborgo 0-0, Correggese Alcione 1-1, Fanfulla Aglianese 1-1, Forlì Bagnolese 2-0, Mezzolara Rimini 2-1, Progresso Sravezza 0-1, Ravenna Prato 4-1, Realforte Querceta Athletic Carpi 2-2, Sammo Arese Lentigione 1-2, Trizium Sasso Marconi 1-1. La classifica della serie D, Rimini 25, Lentigione 25, Ravenna 19, Aglianese 18, Seravezza 17, Mezzolara 17, Prato 16, Sasso Marconi 15, Athletic Carpi 14, Fanfulla 12, Alcione 12, Realforte Querceta 12, Forlì 11, Sammo Arese 11, Correggese 10, Bagnolese 8, Borgo Sandonnino 8, Progresso 7, Trizium 7, Givivorgo 6. I risultati della sesta giornata per l'eccellenza Girone A. Camaiore Pontremolese 3-1, Prato 2000, Valdinievole Montecatini 2-1, River Pieve Tau Calcio 1-2, San Marco Avenza Massese 4-1, Signa 1914 Castelnuovo 1-1, Zenit Prato Lastrigiana 1-1. La classifica dell'eccellenza Girone A, Tau Calcio 16, Signa 1914-12, Lastrigiana 12, Zenit Prato 10, Camaiore 8, Prato 2008, San Marco Avenza 7, Massese 7, Pontremolese 6, Valdinievole Montecatini 5, River Pieve 4, Castelnuovo 3. E adesso i risultati della sesta giornata di promozione Girone A. Amici miei Meridian Larciano 1-0, Lamma di Capezzano 1-3, Lampo Viaccia 1-0, Maliseti Larcianese 1-0, Pieve Fosciana Quarrata 1-1, Ponte Bugianese Virtus Marina Massa 1-0, Real Cerretese Villa Basilica 3-2. La classifica Ponte Bugianese 13-0, Real Cerretese 13-0, Quarrata Olimpia 12-0, Viaccia 9-0, Maliseti 9-0, Pieve Fosciana 9-0, Larcianese 8-0, Capezzano 8-0, Amici miei 8-0, Meridian Larciano 7-0, Lampo 6-0, Virtus Marina di Massa 6-0, Lammari 5-0, Villa Basilica 1-0. Passiamo al basket, il basket Lemura si aggiudica il derby contro l'Empoli. Guido Casotti. Il tris è servito, terzo successo stagionale in A1 per un basket Lemura a tratti convincente ma meno incisivo rispetto alla magnifica performance di Campobasso. La squadra di Andreoli batte un indomabile e coriace use scotti rosa Empoli al termine di una gara sempre condotta nel punteggio e nel gioco. Prima dell'inizio l'associazione Amici Pallacanesso Lucca premia le due squadre protagoniste e finaliste a settembre del trofeo Lovari vinto da Lemura. Dietrich, Natali, Wies, Miccoli e Kasmarci che è il solito starting five. Lucca parte forte con ritmo infernale, quello che piace alle bianco-rosse in completo nero. 5-0, 8-2. Empoli pare stordita ma nell'americana Jeune una risorsa vitale che la tiene a galla. Ora Lucca è meno sciolta, le due americane non sono in grandissima serata. Il primo quarto si chiude 27-17. Ma la partita è vivace, il pubblico si diverte e Empoli è una squadra più fisica anche se va detto che Lemura si difende bene sotto le plance. Gesam sempre avanti ma non troppo e lo strappo non arriva. Cala anche la percentuale al tiro all'intervallo lungo e il tabellone recita 46-41. Il derby è in bilico da vedere e da godere. Nel terzo quarto Miccoli e compagnie cercano di scappare, vantaggio massimo più 15 su 62-47. Sembra fatta ma che nel finale le ospiti di coach Cioni e della ex Ashley Ravelli si portano fino a meno 3. Ma questo Lemura ha anche carattere e si scuote di dosso l'appiccicoso avversario allungando, stavolta sì, in modo decisivo. Finisce 83-71 per Lucca che esce tra gli applausi del Palatagliate e che ha vinto di gruppo. Kasmar Cic e Wiz 15, Miccoli 14, le migliori realizzatrice ma tutte le giocatrici ha referto e questo è un gran bel segnale anche per coach Andreoli. Ora la sosta per le nazionali. Si tornerà in campo domenica 21 novembre sul parquet della Gea Sesto San Giovanni. Questo Gesam si diverte, è una gran voglia di stupire e allora lasciamogli giocare il suo basket spumeggiante. In serie C-Silver il Bama Alto Pascio ha battuto al Palabridge la pallacanestro Valdera con il risultato di 88-82. Partita in bilico fino alla fine, migliori realizzatori altopascesi Lorenzi con 24 punti e Salazar con 23 punti. Passiamo al tennis, doppia sconfitta per le squadre della nostra provincia nella quarta giornata del campionato nazionale femminile. Il forte dei marmi è stato sconfitto in casa per 3-0 dal Casale, tra le versigliesi non giocava Jasmine Paolini e il club tennis Lucca Vicopelago ha perso a Genova 3-1 con Jessica Pieri che si è dovuta ritirare dal suo match a causa di un problema al polso. Il calcio femminile nella quinta giornata di andata, Lucchese sconfitta 2-1 a Pinerolo sul campo della capolista. Rete rossonera della Moni a fine partita l'allenatore della Lucchese Nazareno Tarantino ha definito scandaloso l'arbitraggio. La Lucchese ha subito due rigori ed una espulsione. Domenica prossima gara casalinga contro Livrea. Ed è tutto anche per quanto riguarda lo sport. Qualche istante di pause e poi torniamo con la terza e ultima parte del nostro telegiornale.